Per affrontare il dolore è importante partire dall'ascolto della persona sofferente e ascoltandolo si può anche capire un po' da dove viene questo dolore, se parte dal corpo, dalla mente, dalle relazioni o anche dal proprio spirito, dalla propria anima e quindi sempre un'esperienza complessa in cui è importante cogliere queste dimensioni e poi chiaramente lavorare sulle varie dimensioni, sul dolore del corpo, cercando di curarlo, su quello della mente e accompagnare la persona nelle sue relazioni e anche andare a fondo un po' a volte delle lotte spirituali che la persona fa.